Ecco, destra e sinistra sono difficilmente classificabili per molti versi. Oggi più che mai, ma anche se ci interroghiamo nella modernità quale sia realmente la differenza tra destra e sinistra, come vedremo, non è così facilmente risolvibile la questione. Ne sono stati tanti i tentativi definitori. Alcuni di essi hanno anche avuto un clamoroso successo letterario. Penso al celebre pamflet di Norberto Bobbio, destra e sinistra, che era stato all'inizio degli anni 90 un tentativo molto intelligente e tuttavia non convincente fino in fondo di categorizzare lo spazio della politica dicendo non solo cosa erano state destra e sinistra, ma perché dovevano ancora essere. Quindi Bobbio in qualche modo si faceva portatore dell'idea contraria alla nostra, lo diciamo subito, secondo cui destra e sinistra sarebbero ancora valide anche oggi nel tempo della globalizzazione neoliberale. E questo è un altro aspetto. Intanto va anche detto che molta parte dei cittadini in Europa, quindi non solo in Italia, ma anche in Germania, Spagna e Francia, avvertono il clivage di destra e sinistra come non più soddisfacente. E quindi la crisi della politica passa anche dalla percezione che della dicotomia hanno gli europei. Se prendiamo il caso della Francia, non fosse altro che per il fatto che come si diceva è stata la culla della diade di destra e sinistra, nascono in Francia come categorie di pensiero politico. Non troverete mai prima del 1789 la divisione destra e sinistra. Ebbene, se ci limitiamo al caso della Francia, nel marzo del 1981 solo il 33% degli intervistati pensava che la dicotomia fosse superata. Quindi quasi il 70% era ancora convinto che destra e sinistra orientassero realmente l'agire e il pensare la politica. Ma già nel febbraio del 1986 la percentuale di quelli che pensavano che la dicotomia fosse superata era salito al 45%. Nel marzo del 1988 erano il 48%. Nel novembre del 1989, tenete bene a mente la data, 1989, novembre 1989, ebbene in Francia il 56% dei cittadini riteneva che destra e sinistra fossero superate. Il resto poi è storia reale del nostro presente. Abbiamo visto in tutta Europa scompaginarsi le categorie politiche, c'è stata una fuga disordinata dalle appartenenze politiche, è nato il tempo che è stato definito dei populismi e anche abbiamo assistito più recentemente alla genesi di forze della politica che sfuggivano alla tradizionale dicotomia di destra e sinistra, almeno nella loro genesi. Pensate a Podemos in Spagna, il motto dei cittadini di Podemos che protestavano inizialmente era noi non siamo né destra né sinistra, siamo la gente comune che non conta niente, quindi era proprio questo il tema dell'esaurimento di una destra e di una sinistra, ormai buone solo a giustificare l'ordine dei rapporti di forza della globalizzazione, non è l'esigenza di riscatto dei dimenticati, del popolo degli abissi appunto. Forse il populismo, contrariamente alla visione antipatizzante che ne viene usualmente data, rappresenta più che l'antipolitica il reclamo di una politica che torni a essere legata alla base delle classi che lavorano, che torni a essere cioè espressione della sovranità delle classi popolari.